Oggi parleremo l'uno dell'altro, cioè l'un l'altro. Useremo questa espressione, l'un l'altro. Sarà un messaggio molto pratico, potremmo dire poco teologico oggi. Sarà da mettere in pratica e basta. Però lo vediamo dal testo di oggi. E vi chiederò di fare una cosa, una cosa molto importante. Di non guardare chi vi sta accanto, di non guardare chi sta sulla vostra destra o sinistra, chi vi sta davanti, chi vi sta in braccio, ma di guardare voi stessi, come io guarderò me stesso. Questo sarà un messaggio per noi da applicare personalmente. Però vedremo che nell'applicarlo personalmente sarà poi un messaggio che verrà applicato come gruppo, come chiesa alla rocca, come l'un l'altro. Sarà facile pensare agli altri durante questo messaggio. Sarà facile guardare all'altra persona, oppure guardare vecchie storie, vecchie cose che sono successe e dire ah sì, quella persona non ha, lui non ha, lei non ha. Ma oggi vi sprono a guardare il vostro cuore, a guardare la vostra vita, come io ho guardato la mia vita nel studiare questo testo. Guardiamo la nostra vita e mettiamo in pratica personalmente quello che studieremo insieme. Leggiamo il testo. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri, senza mormorare. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce. Affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Signore, ti ringraziamo per questo testo, questa mattina. Ti ringraziamo perché abbiamo il privilegio di leggere la tua parola, di applicare la tua parola alla nostra vita. Ti prego per ogni persona qui questa mattina, in questa sala oppure che segue da casa su Facebook, Signore, o che lo vedrà durante la settimana. Ti preghiamo di toccare i nostri cuori. Se c'è qualcosa in noi da cambiare, Signore, da modificare, che lo possiamo fare con la forza Tua. Che possiamo, nella Tua grazia, riuscire a crescere, anche oggi, nella nostra vita spirituale con Te. Ti preghiamo questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Come sempre, lo guardiamo versetto per versetto. Versetto 7 inizia da così. La fine di tutte le cose è vicina. Non ho messo l'immagine, l'ho già messo una volta in Apocalisse, però mi immagino Homer Simpson, no? Con la sua insegna che dice, the end is here. La fine è qui, oppure la fine è vicina. E Pietro sta dicendo, la fine di tutte le cose è vicina, siate dunque, dunque, moderati e sobri, quindi il resto. La fine è vicina. Quando ha scritto Pietro questa lettera? Circa 1959 anni fa. La fine è vicina. Vi ricordo, ce lo dice sempre Pietro, ispirato dallo Spirito Santo, in secondo Pietro 3. Ma voi carissimi, non dimenticate quest'unica cosa. Per il Signore, un giorno è come mille anni. E mille anni sono come un giorno. La fine è vicina. Cioè, ci stiamo avvicinando comunque alla fine. E cos'è la fine? L'ho riassunto un po' in quattro punti e l'abbiamo studiato in Apocalisse, però ve le ricordo. Ritorno di Cristo per portare i credenti in cielo. Poi abbiamo la tribolazione di sette anni, abbiamo l'anticristo, tutta quella storia che abbiamo visto in Apocalisse. Gesù che sconfigge Satana, Gesù regna in terra per mille anni. Quindi, quella è la fine. E ci siamo quasi. Pietro dice, la fine è vicina. Vi leggo questa citazione. Nel Nuovo Testamento, la fine è vicina, è un'espressione sempre usata per incoraggiare i cristiani a vivere una vita santa e pienamente dedicata a Dio. Pietro non ci dice la fine è vicina per farci prendere paura, oppure per farci smettere di lavorare, come hanno fatto i testoni cesi, no? No, la fine è vicina e quindi, come dobbiamo vivere? Come dobbiamo reagire? Cosa dobbiamo fare? E qua Pietro ci dice, quindi, siate dunque moderati e sobri, per dedicarvi alla preghiera. Uno stile di vita, di preghiera. Perché Cristo sta per tornare, non sappiamo se è questo pomeriggio, se è l'anno prossimo, o se è tra cento anni. Non lo sappiamo. Cristo sta per tornare e quindi, come viviamo, uno stile di vita, di preghiera. E qua Pietro usa due diverse parole. Dice, siate moderati, quindi con un autocontrollo mentale, siate moderati e siate sobri, cioè con una mente chiara, lucida, che riesce a riflettere. Quando noi stiamo vivendo in modo moderato e sobrio, possiamo veramente dedicarci a una vita di preghiera, a uno stile di vita di preghiera. Potremmo dire che siccome la fine è vicina, oggi è più vicina di ieri, è più vicina di due giorni fa, cioè ogni giorno che andiamo avanti la fine è più vicina. Quindi noi ci dedichiamo alla preghiera con autocontrollo mentale e una mente lucida. Questo messaggio l'ho preparato due settimane fa, due lunedì fa, cioè il giorno prima di tutte le alluvioni. E nel prossimo versetto vedremo degli esempi di applicazione di questo versetto, versetto 8. E vi dico subito che il versetto 8 lo possiamo dividere in due. Versetto 8a, versetto 8b. Versetto 8a dice così. La divisione l'ho fatta io, ovviamente, non è ispirata allo Spirito Santo. Versetto 8, l'inizio dice così. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri. Questa è la prima parte del versetto. Perché l'amore copre una gran quantità di peccati. La buona notizia, versetto A, è questo amore intenso l'uno per l'altro. E vi leggerò delle storie, delle testimonianze. La brutta notizia, la seconda parte del versetto, è che l'amore copre una gran quantità di peccati. Cioè, ci saranno comunque problemi. Ci saranno delle volte dove noi come Chiesa, o come persone in famiglia, dovunque siamo, sbagliamo, pecchiamo l'uno verso l'altro. E quindi ci sarà bisogno di questo amore. Ma guardiamo il testo insieme. Soprattutto, abbiate amore intenso. La parola qui greca per amore è agape, un amore sacrificale. L'amore che Dio ha avuto verso di noi. Agape. Abbiate amore intenso. Questa parola intensa dà l'idea, in greco, di una cosa continuativa, senza mai smettere. Non ha a che fare con l'intensità, con quanto è forte, ma quanto dura questo amore. Un amore che dura in modo continuativo. È difficile. È difficile mettere in pratica questo. Però ho alcuni esempi. Non li leggerò tutti, perché sono tanti. E poi non ho gli occhiali e non riesco a leggere perché è troppo piccolo. Cercherò di riassumere cosa significa amarsi in modo intenso, amarsi in modo continuativo l'uno verso l'altro. E ho solo raccolto un po' di testimonianze in questi giorni. Per esempio, Samuel ci dice che lui ringrazia Dio per come c'è stato un aiuto verso lui, verso Carina. Oppure quando ha visto l'aiuto verso Stan e Carol, quando dovevano fare il trasloco. Oppure quando Adriana si è operata, come gli portavamo del cibo a casa. Carol Stanley, che hanno scritto mezza pagina, riassumo molto brevemente, dicono che loro hanno sentito questo amore intenso quando hanno cambiato casa, a febbraio. Come le donne ci hanno preparato cibo ogni giorno e gli uomini hanno portato scatole mobili per loro. Ma anche nel periodo di preoccupazione, di questo periodo di malattia, dove le persone gli hanno mandato dei messaggi per incoraggiarli, anche da lontano. Oppure negli anni precedenti, quando è morta sua madre e suo fratello, tutti questi messaggi molto premorosi verso di lei, per incoraggiarli, anche a distanza. Abbiamo un esempio anonimo che mi è arrivato. Quando sono stata perdonata oppure perdonato dalla Chiesa, un grande esempio di amore. Oppure Luciano dice un amore l'uno verso l'altro. Beh, ci sarebbero tanti esempi, però andiamo nel pratico. Qualcosa di concreto, nel mio caso, sarebbe quello che Dio mi ha donato nel poter servire la Chiesa, cioè il suo talento con la chitarra, mettendo in pratica con il gruppo di Lore, lodare il Signore. Con questo dono posso aiutare fratelli e sorelle della Chiesa. Quindi Luciano ha un talento che Dio gli ha dato e lui lo usa per la Chiesa. Questa è una dimostrazione di amore. Daniela e Thomas dicono, Noi come genitori siamo rimasti profondamente colpiti dalla manifestazione di amore e interesse verso il nostro figlio Gabriel, da parte di Luciano, che senza alcun obbligo e senza essere pagato, dedica il suo tempo ogni settimana a insegnare alla chitarra, dopo lavoro, quando è stanco, anche con i problemi di alluvione, ma lui c'è. Nella Chiesa La Rocca c'è una grande attenzione per i bambini e i ragazzi, perciò vediamo proprio amore e cura verso il prossimo. Ci sono tante altre cose. Salvatore Aliotta dice che durante questo periodo di alluvione ha detto che se c'era stato bisogno, e non ha avuto bisogno, ma se c'era stato bisogno, che era tranquillo sapendo che la Chiesa lo avrebbe aiutato. Oppure Ruama dice che durante la gravidanza di Manuel ha sentito l'amore molto pratico, con azioni, magari pasti, ma anche preghiere e l'interessarsi con messaggi e chiamate. Gennaro dice, voi siete una famiglia, noi siamo una famiglia, e tutti lo dimostrano con grande affetto. Una cosa particolare, quando abbiamo dovuto lasciare casa per un paio di giorni, per via dell'alluvione, molti fratelli ci hanno contattato per darci il loro sostegno, supporto morale. Alessandra dice, per me è la certezza di avere un grande gruppo su cui poter contare nel momento del bisogno. Oppure io ho aggiunto, vedendo l'esempio pratico, l'uno verso l'altro, il sostegno in preghiera, vedere l'impegno di pulire la sala, perché è bello trovare la sala pulita, e anche questo è dimostrare amore reciproco. Oppure il messaggio di riflessione biblica che ci manda ogni mattina Lucia, nel gruppo WhatsApp. Oppure vedere come alcuni della Chiesa hanno preso a cuore Stefano, il nostro amico cieco, portandolo regolarmente a trovare sua moglie Elena. Oppure le collette alimentari, che come Chiesa abbiamo fatto insieme, non soltanto adesso per la Romagna, ma anche prima per l'Ucraina, oppure per delle famiglie che avevano bisogno di cibo. I nostri pasti assieme, le nostre agape, quando mangiamo insieme, chi porta il cibo, chi pulisce, chi mette a posto, chi mette i tavoli. È bello anche questo, è anche questo, è dimostrare un amore reciproco. Quindi questo è il lato positivo della Chiesa, Chiesa alla Rocca. Ma non è sempre così, perché la seconda parte del versetto dice l'amore copre una gran quantità di peccati. La realtà è che siamo peccatori. La realtà è che spesso non ce la possiamo fare. Io mi sono scritto questo appunto. Siamo una Chiesa di peccatori, salvati per la grazia di Dio. Siamo una Chiesa di peccatori. E quindi ci vuole la seconda parte del versetto 8. Un credente dovrebbe riuscire a perdonare i peccati compiuti verso lui o verso lei. Essere quindi pronto a perdonare mancanza di gentilezza e di insulti. Per quanto riguarda me, siccome amo ferventemente l'altra persona, o sto imparando ad amare l'altra persona, lo perdono per il peccato che ha commesso verso di me. Comunque, l'altra persona dovrà chiedere perdono a Dio per i propri peccati e la sua responsabilità. Ma la mia responsabilità è solo quella di amare. In Matteo 18, Gesù stesso ci spiega come dovrebbe funzionare questo nella Chiesa. Gesù dice, se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. L'importanza di risolvere, l'importanza di chiedere perdono l'uno verso l'altro, oppure di riuscire a spiegarsi l'uno con l'altro. Però se saltiamo avanti in questo capitolo, Matteo 18, Pietro fa una buona domanda, Gesù dice, ma signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte, pensavo di essere generoso, fino a sette volte, tantissimo. E Gesù a lui, non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Cioè, devi perdonare sempre, devi sempre essere pronto a perdonare. Non devi contare quante volte perdoni il tuo fratello. Quindi in versetto 8 vediamo come noi, come Chiesa, possiamo dimostrare amore l'uno verso l'altro. Dobbiamo crescere in questo. Se c'è qualcuno verso la quale ancora non abbiamo dimostrato questo amore, beh, facciamolo oggi, facciamolo in questa settimana. Dimostrare amore intenso l'uno verso l'altro. E quando le cose non vanno, quando ci sono problemi, quando ci sono peccati, impariamo a risolvere. Impariamo a chiedere perdono l'uno verso l'altro. Perché? Il versetto qua dice, l'amore copre una gran quantità di peccati. Viene da Proverbi 10. Non è l'idea di nascondere il peccato, ma l'idea di saper perdonare, di saper sorvolare a volte. Ovviamente se qualcuno ha peccato, deve chiedere perdono a Dio. Quella è la prima cosa da fare. Vediamo un esempio pratico. Versetto 9. Cosa significa in modo pratico amarsi intensamente? Versetto 9. Siate ospitali gli uni verso gli altri, senza mormorare. Siate. Verbo molto importante. È un modo di essere. Non è necessariamente un'azione, ma è uno stile di vita. È un modo di essere. Siate ospitali. La parola ospitali, questa è una parola greca che viene da due diverse parole insieme. La parola philo, cioè un amore fraterno, più xenos, cioè sconosciuti. Cioè dobbiamo dimostrare, essere ospitali, cioè di dimostrare un amore fraterno agli sconosciuti. però poi cosa dice qua Pietro? Siate ospitali gli uni verso gli altri. Sta parlando a credenti, sta parlando alla Chiesa, sta parlando in modo pratico di essere ospitali l'uno verso l'altro. Ed è così importante poi che finisce il versetto, il versetto finisce con senza mormorare e ci arriveremo. Ma l'ospitalità del primo secolo, perché era importante per Pietro dire questo alla Chiesa? C'erano due diversi modi in cui la Chiesa nel primo secolo dimostrava ospitalità. Prima di tutto c'erano evangelisti e missionari che viaggiavano, portando il messaggio del Vangelo. Avevano bisogno di ospitalità e loro magari erano veramente delle persone non conosciute e quindi i credenti dovevano aprire le loro case e essere disposti ad ospitare, a dare aiuto a questi evangelisti, a questi missionari. La seconda opzione è che nel primo secolo non c'erano degli edifici come questo. La Chiesa non si riuniva in un posto preso in affitto oppure al centro sociale, no, si riuniva in casa, nelle case, in casa di qualcuno. Quindi quella persona doveva essere ospitale. Quella persona doveva aprire la propria casa per gli altri fartelli e le sorelle. Però qua Pietro aggiunge qualcosa di molto importante alla fine di quel versetto. Senza mormorare. senza lamentarsi, senza borbottare. La verità è che essere ospitali è faticoso. Ha un costo economico, ha un costo emotivo, ha un costo di forze fisiche. È stancante ospitare. E non soltanto quello, ma non tutti abbiamo questa personalità ospitale. c'è gente per esempio come me che gli piace starsene seduto sul divano con un bel libro da solo. Io come personalità non sono necessariamente così, ma siamo tutti chiamati a essere ospitali. Quindi, come lo mettiamo in pratica? Io ho trovato tre diversi modi per noi, in modo pratico, da mettere in pratica questo versetto. Prima di tutto, in chiesa. Quindi come possiamo essere ospitali in chiesa? Una cosa che dico ogni domenica, viene qualcuno di nuovo? Presentatevi, fatevi conoscere, fatevi delle domande, cercatevi di conoscerli. Oppure offrite un caffè, un bicchiere d'acqua a qualcuno. Interessatevi l'uno dell'altro. Come stai? Cosa hai fatto questa settimana? Come posso pregare per te? Questa settimana ho letto questo versetto, mi hai incoraggiato. Questo è in chiesa. Oppure in casa, cosa significherebbe essere ospitali? Ammetto che a volte è difficile per noi con la nostra vita frenetica invitare le persone a casa, magari per un pasto, potrebbe diventare troppo difficile. Ma magari solo per un caffè. Oppure passare a mangiare il dolce. Oppure mettersi d'accordo con il calendario per una data in cui stare insieme. Ospitalità di vita. Questa è la terza parte. Cioè, in senso generale, come posso vivere in modo ospitale verso gli altri? Io direi essere disponibili a parlare, essere disponibili ad ascoltare, avere il cuore aperto verso gli altri. Ho letto questa citazione di un teologo tedesco, dice così, senza brontolare, è un franco riconoscimento del fatto che la pratica dell'ospitalità potrebbe diventare costosa, pesante e irritante. Il termine greco indica un borbottio o un parlare a voce bassa come segno di disappunto. Rappresenta uno spirito che è l'opposto dell'allegria. È difficile essere ospitale. È difficile. preghiamo a Dio che Dio possa aiutarci a crescere in questo, questa idea dell'ospitalità. Perché Pietro dice siate ospitali. Non dice se ce la fate, se avete voglia, ci potete provare, ma se non volete non lo dovete fare. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. E di nuovo, questa è un'applicazione pratica dell'amore intenso l'uno verso gli altri. Versetto 10 cambia un po' direzione. Potremmo quasi tracciare una riga. Versetto 10 dice come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. In che modo è collogato con il versetto prima? Beh, se io ho una casa la posso mettere a disposizione degli altri. Se io ho una macchina e il caffè lo posso mettere a disposizione degli altri. Quindi c'è comunque questo collegamento. Ma in questo versetto sta parlando in modo particolare dei nostri doni spirituali, dei nostri talenti che sono per Dio. e usa una parola molto, molto importante. Siamo amministratori. Cioè, cosa significa essere un amministratore? Io non sono il proprietario del mio dono spirituale, io non sono il proprietario dei miei talenti, è un dono che Dio mi ha dato da amministrare, cioè mettere poi di servizio per gli altri. Non è nostro ma è in affido da parte di Dio. Dobbiamo amministrare. Bene. Il versetto 11 ci dà due esempi di due doni e potremmo leggere il resto del Nuovo Testamento e trovare altri 20, 25 doni spirituali, ma qua ne troviamo due. Versetto 11 Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. amén. Qua abbiamo una lista corta di doni spirituali, però possiamo dire che probabilmente li include tutti, tutti gli altri. Parlare e fare. Dire e fare. Ok? Questi sono i due doni di cui sta parlando qua. Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. questi sono gli oracoli di Dio. Cioè il Vangelo, la Bibbia, le cose di Dio. Quindi come parlo se sto annunciando gli oracoli di Dio? Parlo con verità, parlo con grazia, parlo con amore, con applicazione, cioè di applicare gli oracoli di Dio. Quindi se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. E non parlo solo io, parlate anche voi, magari con il vostro vicino, parlate in casa, parlate con qualcuno che ha bisogno di un incoraggiamento, ha bisogno di una parola di conforto, parlate anche voi, ma come si annunciano gli oracoli di Dio? L'altro verbo, fare. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce. Un servizio, qualcosa di pratico, abbiamo parlato dell'ospitalità, anche quello è un servizio, pulire la chiesa, anche quello è un servizio, preparare il caffè per gli altri, anche quello è un servizio, ma lo facciamo con la forza divina, con la forza che Dio ci dà, facciamo le cose pratiche per gli altri, per la chiesa, ma lo facciamo per Dio. E poi il versetto qua dice, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio, lo facciamo per portare gloria a Dio, quindi chi parla, chi fa, glorifica Dio. E poi il versetto qua finisce con un bellissimo momento di lode verso Dio. Dice, in ogni cosa si è glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono gloria, potenza nei secoli dei secoli. Amen. E finisce con questo momento di grande lode verso il nostro Dio, la sua gloria, la sua potenza nei secoli dei secoli. cerchiamo di tirare un po' le somme. Arriviamo a un'applicazione, l'abbiamo già viste tante durante questo messaggio, ma ne ho trovati diciamo quattro in modo specifico. Quindi, la fine è vicina. Quindi la domanda che dobbiamo provare a rispondere è come sto usando il mio tempo. Oggi siamo più vicini al ritorno di Cristo rispetto a ieri. Come sto usando il mio tempo? Vi ho fatto già l'esempio dei testi di incestri. loro avevano smesso di lavorare perché dicevano ma tanto adesso torna Cristo che lavoro a fare. E Paolo li sgrida. Quindi non è quello. Continuiamo a fare la nostra vita ma dedicandoci alla preghiera e alla parola. Cristo tornerà non sappiamo quando. La seconda applicazione amiamoci intensamente cioè in modo continuativo. Questo è un amore che non dipende dalle simpatie dalla personalità dalla razza dal colore dei capelli ma dipende dal fatto che ci amiamo intensamente perché siamo chiamati ad amarci intensamente. E poi l'ospitalità come posso crescere nella mia ospitalità verso gli altri e gli adolescenti hanno un fogliettino chiesto anche a loro come loro potrebbero applicare questa idea di ospitalità l'uno verso l'altro come posso essere ospitale in casa in chiesa in giro con gli altri e come posso dare ospitalità senza mormorare magari abbiamo bisogno di chiedere perdono a Dio per questo e poi l'ultimo l'ultima applicazione usa i tuoi doni spirituali al servizio degli altri e per la gloria di Dio noi siamo amministratori non dobbiamo tenerci i nostri doni i nostri talenti che Dio ci dà per gestirceli da soli per non aiutare gli altri no li mettiamo al servizio della chiesa parla e fai questi sono i due verbi prima di pregare vorrei leggere un ultimo versetto da Evesini capitolo 3 se volete aprire le vostre Bibbie lì Evesini capitolo 3 versetto penso 14 una preghiera che Paolo fa per la chiesa degli Evesini una preghiera che faccia anche per noi come chiesa la rocca per questo motivo piego le ginocchia davanti al padre dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende il nome affinché egli vi dia cioè affinché Dio padre ci dia dia la chiesa secondo le ricchezze della sua gloria di essere potentemente fortificati abbiamo bisogno di essere fortificati applicare questo alla nostra vita è difficile è faticoso non ce la possiamo fare da soli abbiamo bisogno di essere fortificati da Dio fortificati mediante lo spirito suo nell'uomo interiore e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza la lunghezza l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e riconoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio la preghiera di Paolo per la chiesa Efeso era quello che potessero abbracciare comprendere capire l'amore di Dio che è il nostro esempio di amore è il tipo di amore che poi dobbiamo imparare a dimostrare l'uno verso l'altro preghiamo Signore ti ringraziamo per questo testo questa mattina ammettiamo ammetto che è difficile ammettere in pratica è difficile non brontolare è difficile dimostrare amore l'uno verso l'altro in modo regolare continuativo Signore ti prego quindi di perdonarmi per quando non l'ho fatto per quando ho brontolato per quando non ho dimostrato questo amore verso gli altri un amore che si sacrifica ti preghiamo che come chiesa possiamo crescere in questo che possiamo applicare non soltanto qui ma anche a casa in giro questi principi che abbiamo visto insieme questa mattina ti prego questo nel nome di Gesù Amen Cantiamo un ultimo canto insieme e un ultimo canto